E ora ci occupiamo delle pappe, giusto? E' Felix? Eh sì, qua avete messo un tubino. Eric è tornato. Wow, Ginger! Grampi, più o meno, Horus, bello Horus, ricetta, cipollina, ma Ginger, Tiger, amore, Grampi, Gelsa, fatti vedere Gelsa, Gelsa, farfallina, macchia, macchia, Winnie, c'è fame qui, James, ciao James, eh sì, ora ricarichiamo Tutto, per amore, eh cipollina? Ciao, Camelia! Ah, fatti le unghiette, Emilia, saluta, saluta Axel! Di bellulina? Eh, notte, carriope Alenne? Alenne! Ciao Alenne! E Gelino? Gelì? L'utero in cui la gabbia è nero su nero, però in base non si vede Pennetta, 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 Pennetta! Non si gira, Pennetta Dylan, è serena, è fame, è piuma? Hai mangiato la pillola, la piuma? No, possiamo metterla Astrid Piancino Agostina Agostina Ci sta anche, amore Eh, bella? Ciao, Night Bello, Night Chicca Domingo Ophelia Serenity Ciao, diretta E Byte Che c'è, diretta? Prince Nasina Nasina Gelzina Iniziamo Non è lì, 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 lì Che c'è, lì, 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 Grazie a tutti.